Ciao a tutti! Oggi prepariamo cavolfiore alla pizzaiola. Per prima cosa mi occupo del cavolfiore. Tagliamo il cavolfiore a metà e poi a fette. Le fette non devono essere troppo spesse. Andiamo! andiamo a guarnire con tanta tanta polpa di pomodoro e poi aggiungiamo la polpa di pomodoro Grazie a tutti. Aggiungiamo l'olio d'oliva. Andiamo a salare il nostro cavolfiore. Poi aggiungiamo la mozzarella. Io ho usato la mozzarella, quella apposta da usare per la pizza. Adesso andiamo ad aggiungere il basilico. Aggiungiamo anche l'origano. Mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Ora aggiungiamo il parmigiano e lo rimettiamo in forno per 10 minuti. Eccolo qui il nostro cavolfiore alla pizzaiola pronto da servire.